Ehi, ciao! Benvenuti in questo video testimonial per il corso di sollivio Tantra e Tao, tecnica per l'uomo. Io mi chiamo Sergio e frequento il corso da circa 4 mesi. Ho seguito più o meno diligentemente tutti i video e tutte le istruzioni che vengono date e devo dire che i risultati che ho avuto sono stati straordinari. Mi è piaciuto tantissimo non solo seguire il corso, non solo fare le pratiche, ma anche vedere nella mia vita come il mio rapporto con me stesso, il mio rapporto con gli altri e con le donne è cambiato. Allora, premetto che nel mio caso non avevo nessun problema di eiaculazione precoce o di impotenza prima di cominciare il corso. So che tanti si avvicinano a questo tipo di discipline esattamente per questo motivo. Non era il mio caso, anzi mi ritengo piuttosto fortunato, sono sempre stato piuttosto prestante nel lato sessuale, ma sapevo che da un paio d'anni in realtà per un uomo era possibile molto molto più che fare sesso come lo si considera di solito, in cui c'è una penetrazione meccanica, sì, ci può essere dell'amore, ci può essere della vicinanza, della connessione, ma la quantità di piacere che l'uomo può provare è limitata all'eiaculazione o a poca stimolazione in più. Nella mia esplorazione ho scoperto che esisteva il tantra, ho scoperto che era possibile per un uomo avere orgasmi multipli, avere una connessione addirittura con il divino attraverso l'orgasmo, e già stavo cercando di ottenere questo risultato, leggendo e guardando altri video sparsi un po' così per internet. Già praticavo la ritenzione del seme, però mi mancavano dei pezzi del puzzle, non sapevo esattamente bene cosa stessi facendo e infatti i conti non mi tornavano. Fortunatamente ebbi una chiamata con Livio che mi spiegò cosa mi mancava e come si faceva e fu una coincidenza divina in realtà a conoscerlo. Una volta iniziato il corso, non solo le mie prestazioni sono migliorate, ma il mio rapporto con me stesso è cambiato completamente. Ho capito e ho imparato cosa vuol dire rispettarmi, prendermi il mio tempo con me stesso per primo, poi condividere questo amore per me stesso con la mia partner. E non solo la quantità di piacere, di sensazioni positive che provo nel mio corpo e che provo durante l'atto sessuale o durante la masturbazione, sono incrementate esponenzialmente. Come lavoro io faccio il coach di relazioni, quindi già, ripeto, da tempo avevo studiato gli argomenti, avevo una discreta preparazione in merito, ma grazie al corso di Livio ho avuto un miglioramento che non avrei potuto calcolare in precedenza. Quindi con questo video ti voglio invitare, caro interessato al corso, a prendere la decisione giusta. Inizia, comincia, spero di vederti presto nel gruppo Facebook in cui ci riuniamo, in cui discutiamo, in cui condividiamo, dove ci troviamo nel nostro processo di autoscoperta e in cui Livio è sempre disponibile per rispondere alle nostre domande. Oltre che essere disponibile in real time, quindi sul gruppo Facebook, gli si può anche messaggiare, lui ti risponde, ti risponde bene, ci tiene al fatto che tu ottenga quello che vuoi ottenere dalla tua vita. E il corso stesso è molto interessante, molto divertente anche da seguire, a me lo stile di Livio piace tanto. E le lezioni teoriche sono molto approfondite, rimane molto chiaro il perché si fa quello che si fa e che significato c'è dietro ogni pratica che viene spiegata. E le pratiche stesse sono molto semplici, relativamente brevi e abbortabili per tutti. e i risultati che portano sono straordinari. Quindi, spero veramente che questo testimonial ti possa aiutare nel fare la tua scelta e di vederti presto nel gruppo Facebook. Ciao!